Ciao qui è Gio di Seduzione Attrazione e nel video di oggi andiamo a rispondere a due delle vostre domande che ci sono arrivate. La domanda è questa. Come si fa a vincere la sensazione di inadeguatezza che si prova mentre si parla con una donna molto bella, aperta parentesi, soprattutto con quelle con cui in teoria scarseggiano gli argomenti, quella che ti fa parlare al rallentatore, oppure ti fa dire solo scontatezze? La pura verità è questa. Come al solito non ci sono pillole magiche per risolvere questo problema, ma quello che tu vuoi fare è esporti a ragazze di questo tipo per un periodo di tempo prolungato, il che significa, come al solito, farsi il culo. Farsi il culo sul campo, intendo. La seconda cosa che tu vuoi fare sicuramente è quella di lavorare sul tuo valore di uomo in maniera da sentirsi meno inadeguato di fronte a queste donne, perché quello che si percepisce da quella che è la tua domanda è che in questo momento tu ti senti inadeguato di fronte alla ragazza e se tu ti senti inadeguato diventerà una sorta di profezia che si autoavvera e sarai inadeguato. Quindi l'unica possibilità semplicemente è esporsi, aumentare le tue skills, come ti insegniamo qui sul canale, sul sito, nei corsi, e aumentare il tuo valore di uomo in modo che tu abbia la solidità in quelle che sono le tue convinzioni, quasi scientifica, che ti convince del fatto che tu sei in diritto di parlare con quella ragazza e di non sentirti in una situazione di inferiorità. Per fare tutto questo ti ricordo che ho sintetizzato tutti quelli che sono i punti su cui tu puoi lavorare per aumentare quello che è il tuo valore di uomo, li ho messi in un corso che si chiama Insider Mind e se tu vuoi approfondirli e impegnarti a farti il culo per migliorare ognuno di questi punti, puoi dare un'occhiata al link che trovi in descrizione. Ok, prima di andare ti ricordo di iscriverti al canale e se vuoi diventare un maestro della conversazione ho creato una serie di video gratuiti proprio su questo argomento. In questi video vedrai vari filmati di approcci di ragazze dove uso le tecniche di conversazione e poi te le spiego passo passo. Clicca il link in descrizione per accedere a questi video. Ciao da Joe di Seduzione Attrazione.